L'assessore comunale di Taranto alle aziende partecipate Massimiliano Motolese ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla gestione dell'AMIU a 60 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. Massimiliano Motolese ha parlato di alcune fondamentali innovazioni che hanno fatto registrare un deciso cambio di passo. Su tutte, il sistema di videosorveglianza itinerante, che è una misura utile ed efficiente per il contrasto ai reati ambientali. Il sistema è già attivo da 40 giorni. Il potenziamento della capacità di pronto intervento proseguito dall'assessore rispetto a interventi di natura straordinaria, quali abbandoni di rifiuti sulla strada, cassonetti danneggiati, recupero di rifiuti ingombranti. Poi il dog scotter. Abbiamo provato a mettere in campo numerose iniziative che tendono alla riqualificazione sia del servizio dell'azienda stessa, ma anche a un ripristino di quello che è un senso civico e del decoro urbano. Sono state molte le iniziative. Abbiamo ripristinato il servizio dog scotter. Oggi sono arrivati due nuovi aspiratori urbani, che serviranno appunto per la sostituzione della vecchia metodologia dello spazzamento e dando così la possibilità di poter coprire nuove aree. Abbiamo istituito i vigili ecologici che aiuteranno e surrugheranno in alcuni casi la Polizia Municipale per l'elevazione dei reati di tipo ambientale. Abbiamo aumentato i presidi nelle zone commerciali in modo tale che i nostri portarifiuti potessero essere sempre sbuoti e pronti per il loro utilizzo. Abbiamo istituito in collaborazione con la Polizia Municipale un sistema di videosorveglianze. Finalmente tanto richiesta dalla città effettivamente serviva perché oltre a aumentare la presenza sul territorio dobbiamo anche purtroppo mettere in atto quelle azioni che midono a dissuadere tutti quei comportamenti incivili che alcuni nostri concittadini hanno. Mi piace ricordare a tutti noi, me compreso, che Taranto è la nostra casa quindi dobbiamo preservarla e fare in modo di trattare le nostre strade come se fossero i corridoi di nostre case, le nostre stanze con un aumentato, diciamo con uno sviluppo di quello che è il senso civico potremmo sicuramente vivere in una città più pulita, più decorosa per tutti quanti. Grazie. 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 Grazie al nostro Danny.